Xml encoding uguale UTF, 8. Gianmar Conestini, il fratello di Luca, EU No dei protagonisti del Granerma No, il grande fratello spagnolo Qua avventura sta andando bene Essendo molto apprezzato dal pub Chico che finora lo ha fatto resterene Il programma, ma adesso un episodio Ischia di compromettere la sua term A su Instagram, su Gianmarco Stanno Circolando notizieinfamanti.sid I cecchi si fosse già fidanzato in E ha litiscio di italiano ed è statonomi Nato anche il programma Temptatio Nisland dove lui è partecipato Metentatore.luca, stufo di Ledger I cattiverie, ha quindi replica Todd Continua dopo la foto Adesso parlo io, ha esordito, affe Comando che l'onestini che si è fidano Si ad un reality è stato lui Con Ivan Amrazov appunto poi ha parlato De Il rapporto intrapreso dal fratello Con una donna sposata, Adara Anche Gli piace esse, cosa succede? Può essere incolpato di qualcosa? H Ha tentato di baciarla o qualcosa Adis Imile? No, perché è una persona Ker Ispetta molto gli altri Continuo A dopo la foto, Luca non ritiene Comu Ed era una vittima, anzi, Almas Simo avrebbe dovuto essere lei Adal Tanarsi essendo legata da Umat E la colpa è un ragazzo più giovane E la colpa è un ragazzo più giovane F Sì perché è più facile dare la colpa Un ragazzo giovane, single, puli Tu è che viene da un altro paese, Ad Erato il partner di Ivana Con Continuo Dopo la foto, Luca ha accusato Uniuce di Adara, Ugo, di essere Una persona cattiva e da conclusui Il suo post ponendo l'accento sul ris Petto La mia famiglia è diocredia Mucca il rispetto tra le persone La verità non debbano mai venire Muccare nella vita e tanto meno in un R Alì ti punto nella casa e anche al di fuori Al contrario, sembra che alcune Erso ne hanno superato abbondantem E questi limiti punto questo non può Può essere permesso, a chiosa Toil Di Gianmarco Onestini punto G Marco, classe 1996, studia giuri Sprudenza ed è un modello e vedo in flu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti